Questo è un caso personale, non è un caso politico, è il caso di una persona per cui gli inquirenti faranno le dovute indagini. Noi come Fratelli d'Italia non abbiamo nulla a riguardo. Per Fratelli d'Italia non è una questione politica, ma solo personale. Il caso dell'agente di polizia, Ivan D'Amore, 32 anni, arrestato con l'accusa di aver gestito insieme a una cinquantenne colombiana e sfruttato un giro di prostituzione in rompe sulla scena politica di Preganziol, perché D'Amore tra il 2019 e il 2022 era stato il segretario del circolo comunale di Fratelli d'Italia, tanto da essersi candidato alle amministrative come consigliere. In quell'occasione, promettendo tra l'altro una stretta al fenomeno della prostituzione sul terraglio, aveva ricevuto ben 111 preferenze. Ma nel 2022 i vertici provinciali del partito avevano scelto di rimuoverlo e di commissariare il circolo. Sono oltre due anni che l'attività del partito si svolge con persone differenti e con un dinamismo diverso. Lo stesso partito a livello provinciale aveva fatto una scelta di discontinuità, proprio perché consapevole fosse il caso di cambiare la guida. D'Amore in servizio alla polizia di frontiera a Tessera era già sospeso dal servizio scarcerato, per lui rimane l'obbligo di firma. Voi prendete le distanze, mi pare che era molto negli. Ma sì, perché non è una questione politica, è una questione giuridica, legale e privata. Una vicenda che farà il suo corso a livello giudiziario. Il sindaco Dem Paolo Galeano ne parla con la massima cautela per evitare, dice, ogni tipo di strumentalizzazione. I fatti che stanno emergendo sono di tutta evidenza gravi, nonostante però riguardi una persona che si era candidata per la vita pubblica di Preganziol, conosciuta e nota, ci sembra corretto non strumentalizzare, non fare speculazioni su quanto accaduto. Vedremo adesso la giustizia a fare il suo corso e auspichiamo che venga fuori il giusto e il bene.